Musica Aggressioni omofobe da parte del branco, 11 giovanissimi indagati. La scinnuta della dolorata aperto a Palermo i riti della Pasqua. A Palermo, a Palazzo Santeria, l'esposizione Caos di Nicola Figlia, artista originario di Mezzo Iuso. Nuova edizione di Media News, appuntamento di sabato 1 aprile. Aggressioni omofobe da parte del branco, 11 giovanissimi indagati. È accaduto a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove i ragazzi, molti dei quali minorenni, aggredivano e molestavano le vittime per il loro orientamento sessuale. Decisiva la collaborazione delle vittime. 11 minorenni sono indagati nell'ambito di indagini della Polizia perché accusati di fare parte di un branco responsabile di due violente aggressioni omofobe commesse a Vittoria nel Ragusano lo scorso mese di dicembre. Le indagini della squadra mobile di Ragusa e del commissariato di Vittoria, avviate dopo la denuncia delle vittime, sono state coordinate dalla Procura per i minorenni di Catania. In un caso, gli indagati hanno seguito la vittima provocandola con insulti, spinte e poi colpendola con calci e pugni, interrotti dall'arrivo di un passante. Un'importante aiuto all'identificazione dei minorenni è giunto dalla visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza. Alcuni degli indagati, anche su pressioni degli ignari genitori, hanno ammesso in lacrime le loro responsabilità davanti al magistrato. Agli 11 è stato notificato un avviso di conclusione e indagini per lesioni aggravate dall'omofobia. Altri due minorenni sono indagati dalla Procura di Ragusa. Quasi tutti i denunciati comunque erano già conosciuti dalla Polizia di Stato e questo ha permesso una rapida individuazione. Dopo aver riconosciuto gli autori del reato, gli investigatori hanno convocato le vittime negli uffici della Polizia di Stato per il riconoscimento. Anche Messina, protagonista della giornata Sveglia Regione per la riforma forestale in Sicilia, proclamata da Fai Cisle, Flai CGL e Wila Will, con una serie di iniziative di mobilitazione in quasi tutti i comuni della sua provincia e con un'assemblea partecipata nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. La forestazione deve tornare al centro delle agende politiche di tutto il territorio, a tutti i livelli. La forestazione è materia importantissima, soprattutto per il territorio messinese. Da anni rivendichiamo una riforma del settore in quanto non è regolamentato da una legge aggiornata. Tutta la manodopera forestale viene regolamentata da una vecchia legge, la legge 1696, che ha garantito il lavoro per le fasce, per le garanzie occupazionali. Però se vogliamo veramente difendere il territorio, riqualificare il territorio, prevenire il dissestro idrogeologico, dobbiamo chiaramente attuarci per una buona riforma che vada a riqualificare tutto l'intero settore. Abbiamo perso lavoratori negli ultimi tre anni, più di 500. Abbiamo una forestale, oserei dire, una forestale invecchiata. Pertanto se non troviamo le giuste soluzioni per far inserire, addirittura, oserei dire, se non apriamo i cancelli del bosco ai giovani, fra qualche anno parleremo al passato di forestale. Il bosco è una risorsa veramente ecosostenibile, attivando dei percorsi paesaggistici, con dei percorsi che portano a una maggiore fruibilità del bosco, intervenendo anche con le materie prime che il bosco ci dà, la lavorazione del legno, produzioni del sottobosco. Si riuscirebbe veramente, ripeto, con una programmazione anticipata, con una programmazione abbastanza qualificata, riusciremo a garantire l'attività lavorativa per tutto l'anno ai nostri lavoratori. Amat, martedì il vertice azienda sindacati, Filt, CGL, Fit, CISL e Will Trasporti chiedono il contratto di servizio, un piano di risanamento, la ricapitalizzazione, il piano industriale, la riorganizzazione del personale, altrimenti sarà mobilitazione. Un piano di risanamento dopo la perdita di 6 milioni di euro nel 2018, un nuovo contratto di servizio, il piano industriale, la ricapitalizzazione, la riorganizzazione del personale. Sono le principali richieste che i sindacati dei trasporti di Amat, Filt, CGL, Fit, CISL e Will Trasporti presenteranno al presidente di Amat, Michele Cimino, martedì prossimo, durante un incontro al quale prenderà parte anche all'assessore comunale alla mobilità, Giusto Catania. I conti sono al centro delle preoccupazioni dei sindacati. Con il bilancio comunale del 2017, affermano i segretari, il capitale sociale è sceso di 50 milioni di euro e si è ridotto a 35. Serve subito una ricapitalizzazione per garantire la sopravvivenza di Amat e un nuovo contratto di servizio che tenga conto dei costi del tram. Inoltre, torniamo a chiedere un piano di riqualificazione del personale e un piano assunzioni, dato che fra pensioni con la legge Fornero e Quota 100 andranno via ento dicembre circa 45 lavoratori fra autisti e addetti all'officina, servizi cruciali per le attività. Da qui l'annuncio. Se dall'incontro non otterremo una risposta efficace, saremo costretti ad avviare lo stato di agitazione e una mobilitazione per salvare il futuro di Amat, dei lavoratori e dei servizi per i cittadini. Auspichiamo che martedì possa partecipare anche l'assessore al bilancio, Roberto D'Agostino. Da tempo chiediamo all'azienda, aggiungono, di trovare soluzioni adeguate e immediate per garantire un futuro ai lavoratori e assicurare un servizio adeguato ai cittadini. Troviamo assurdo che 50 nuovi bus restino fermi in deposito per la mancanza di autisti, un problema che potrebbe essere affrontato richiamando intanto gli interinali e da questo dipende l'efficienza del servizio. I sindacati di Amat concludono i tempi per un concorso che comunque bisogna indire dato che non si assumono nuove autisti al 2000 non sono inferiori agli otto mesi. Serve dunque una risposta immediata per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini con l'arrivo di almeno 100 conducenti. Concluso a Palermo lo sgombero del campo. Nomadi, carabinieri, agenti di polizia di Stato e Municipale, vigili del fuoco e sanitari del 118 sono entrati nell'area della zona della favorita e hanno fatto uscire 45 persone che si trovavano ancora nel campo. Uomini, donne e bambini sono stati portati in strutture messe a disposizione dal comune di Palermo. È stato sgomberato il campo nomadi a Palermo. Sono state fatte uscire 45 persone che si trovavano ancora nel campo e che saranno portate in strutture messe a disposizione dal comune. Vi è libera anche alla bonifica con l'abbattimento delle ultime baracche. Nei giorni scorsi la Procura aveva lanciato un ultimatum per liberare la zona occupata abusivamente dal 1990 e dove sono state realizzate strutture pericolose per chi le abita. Un grande senso di civiltà, l'apprezzamento da parte di chi ha vissuto in questi anni in questo campo per le forze dell'ordine, per i carabinieri, per la nuova situazione strunale. Per quanto ci siamo impegnati a far sì che rendere questo spazio della favorita uno spazio offribile da tutti non fosse un'occasione traumatica di scontri, di sensi o di rimozioni forzose. Stato tutto avvenendo il massimo della calma possibile. Proseguiamo un cammino iniziato parecchi mesi fa che lentamente, lentamente aveva già provveduto a far diminuire il numero dei presenti in quest'area inizialmente a 120 poi ridottici negli ultimi mesi a una cinquantina di presenze e oggi il campo viene interamente liberato e poi dopo si provvederà alle rimozioni, alla demolizione e alla sistemazione di questa area che tornava ad essere fuibile da parte di tutti i cittadini complessi coloro che qui abitavano e verranno qui non a vivere ma a giocare a trascorrere il tempo libero. Siamo tutti palermitani e devo dire che i romi sono dimostrati anche loro palermitani comprendendo le ragioni di una città e la città ha complesso le loro ragioni. Il sindaco di Messina, Cateno Di Luca attacca il sottosegretario Villarosa e accusa Roma di volere sottrarre oltre 100 milioni di euro degli investimenti già destinati alla Sicilia per trasformarli in trasferimenti da destinare alla spesa corrente delle ex province siciliane. Sulla crisi delle ex province siciliane lo scontro è prettamente politico. Il sindaco di Messina Di Luca torna all'attacco del governo nazionale in particolare del Movimento 5 Stelle finito negli ultimi tempi nel mirino del primo cittadino. Mentre le ex province regionali stanno chiudendo per fallimento il sottosegretario Villarosa si diverte con il gioco delle tre carte. Mi auguro che la regione non firme è un'altra condanna a morte. Il rappresentante del governo è accusato dal sindaco di Messina di non aver portato all'attenzione di Roma la questione siciliana. De Luca ricorda gli impegni assunti lo scorso 22 febbraio dal sottosegretario a Palazzo De Leoni davanti ai dipendenti in ferie. Gli unici fondi ad oggi resi disponibili sono quelli della regione. 101 milioni di euro anche se in realtà ne erano stati promessi 112. Per il sindaco c'è poco da esultare. Il prelievo forzoso rivende un provvedimento in atto ad il sottosegretario non terrebbe conto della penalizzazione che in questi ultimi quattro anni le ex province siciliane hanno subito oltre 250 milioni di euro in meno rispetto a quelli delle regioni a statuto ordinario. Per garantire servizi minimi offerti in questo momento dagli enti servono altri 80 milioni da destinare ai bilanci 2019-2021. Nessun segnale da Roma. Lo scontro politico prosegue. Le ex province siciliane che tutt'oggi pagano le conseguenze di una riforma sbagliata quella firmata dal presidente della regione Rosario Crocetta che ha soltanto peggiorato le cose attendono di sapere come andrà a finire. Cinque persone sono state arrestate a Catania per rapina e sequestro di persona con le aggravanti di aver agito con crudeltà e di avere commesso il fatto nei confronti di una persona anziana. Avrebbe orpicchiato una donna anziana per rapinarla. I manette finiscono anche tre nipoti della donna. La polizia di stato ha arrestato i cinque soggetti su delega di questa procura distrettuale dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare. Sono ritenuti responsabili dei delitti di rapina e sequestro di persona con le aggravanti di aver agito con crudeltà verso le persone, di avere commesso il fatto nei confronti di una persona ultra 65enne e di aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la privata difesa. I fatti risalgono alla sera del 7 agosto 2017 quando un'anziana donna di 73 anni è stata aggredita mentre si trovava da sola all'interno della propria abitazione nel quartiere di Picanello. Un uomo e una donna dopo essersi fatti aprire la porta d'ingresso dell'abitazione fingendosi fattorini che dovevano consegnare un pacco hanno aggredito l'anziana signora spingendola a terra e colpendola ripetutamente con calci e pugni. Dopo l'hanno legata con il nastro da imballaggio e imbavagliata con uno straccio per impedirle di urlare e invocare aiuto. dopo averle immobilizzata i due individui si sono impossessati di un bracciale in oro del valore di circa 350 euro sfilandolo dal polso della vittima per poi allontanarsi repentinamente dall'abitazione. Ora legale questo il nome del progetto ideato dalla settima circoscrizione di Palermo è rivolto agli studenti della scuola media borgese 27 maggio che pone al centro dell'attenzione dei giovani alunni il senso civico e le norme della città. L'anno scorso con la delibera 151 abbiamo istituito in aula l'ora legale non è altro che un progetto che prevede degli incontri con i ragazzi della scuola borgese per far accrescere il senso civico e parlare di regole e di rispetto del prossimo parleremo di diritto allo studio di un'abitazione per tutti i cittadini e soprattutto di spazi verdi dove poter dare la possibilità ai ragazzi di giocare insomma passare anche del tempo libero con i propri familiari Un'iniziativa che nasce nella volontà esplicita di dare diciamo come dire risultanze al territorio e di carpire quelle che sono le esigenze del territorio da parte delle nuove generazioni un prolungamento dell'ora legale significa un prolungamento della luce e questo per noi ha un significato pregnante nell'ordine alla necessità all'impellenza e alla volontà di intraprendere una serie di azioni territoriali volte proprio a un benessere della collettività i giovani e le nuove generazioni devono capire che nella cultura nella conoscenza e nelle dinamiche di un lavoro di consiglio c'è un accrescimento un uscire fuori dall'ignoranza e dal degrado culturale che molto spesso attanaglia le nuove generazioni hanno approfondito vari argomenti il diritto alla casa il diritto agli spazi verdi il diritto all'istruzione e al termine di questo percorso avremo anche la visita del nostro amato sindaco che ci verrà a trovare e terrà anche lui una lezione sul diritto quindi oggi siamo contenti di portare i nostri alunni a stretto contatto con le sedi istituzionali dove si discutono quelli che sono gli interessi della comunità ed è giusto che i nostri alunni prendano coscienza del fatto che si tratta di istituzioni fondamentali dove si parla e si deliberano leggi di interesse per tutta la comunità ebbene è molto legato anche questa attività alla legalità rispetto delle leggi perché ritengo che tutti i cittadini responsabili civili debbano attenersi e rispettare quelle leggi che la comunità si è data la scinnuta della dolorata ha aperto a Palermo i riti della Pasqua questo è il periodo clou il periodo di tutti i preparativi dove tutto viene affrontato nella meticolosità del dettaglio oggi appunto iniziamo con il primo momento che è quello della scinnuta della dolorata dove appunto la dolorata viene scesa dalla sua cappella dove viene custodita tutto l'anno per essere intronizzata appunto sul fercolo che poi andrà in processione durante appunto la processione cittadina del venerdì santo e faremo questa sera tre giri all'interno della chiesa ovviamente accompagnati con la liturgia con la preghiera e anche con il tocco delle marce funebri che ovviamente in questo periodo danno il loro tocco un po' particolare abbastanza mesto di quello che è poi la settimana santa io vi chiedo di partecipare a quello che è il primo venerdì santo di Palermo dal punto di vista storico perché ricordo che la confraternità di Maria Santissima dolorata della soledade del porto e trasporto nasce nel 1590 ed è il primo venerdì santo ufficiale di Palermo della città quindi abbiamo oltre 420 anni di storia con l'esattezza 429 anni di storia quindi diamo appuntamento a tutti i devoti e fedeli con la storia con la devozione e con la cultura giorno 18 appunto per il giovedì santo per la funzione che sarà qui con la lavanda dei piedi appunto la messa in piena domini e poi con la processione che è il momento culmine il momento cruciale che è giorno 19 aprile alle ore 17.30 oggi il 5 di aprile abbiamo iniziato con il portare giù la statua della Madonna l'icona della Madonna della dolorata e quindi inizia la preparazione a questo questa celebrazione della Pasqua in modo intenso il tempo di Quaresima ormai voglia al termine e quindi questi preparativi sono ormai verso la conclusione il triduo pasquale sarà il cuore di tutto preceduto dalla domenica delle palme sapete che quello è proprio l'ingresso alla settimana santa e poi il triduo sarà il culmine di questa settimana il giovedì dove celebreremo il dono dell'eucaristia il dono del sacerdozio il dono del comandamento nuovo e poi adoreremo il signore Gesù nel santissimo sacramento dell'eucaristia il venerdì giorno in cui quello che è annunciato nell'eucaristia dell'ultima cena è poi vissuto sulla pelle e sul corpo il sangue di Gesù la sua passione è morte e poi il seme caduto in terra che muore dà frutto e la resurrezione la Pasqua la veglia pasquale e il giorno della Pasqua sarà la grande festa della vita che vince sulla morte allora tutti auguriamo che questo cammino che conclude la Quaresima e che ci fa vivere il cuore della nostra fede sia vissuto bene intensamente e che entri nella nostra vita e che la nostra vita entri nel mistero di Cristo Salvatore auguri buon cammino a tutti a Palermo a Palazzo Sant'Elia l'esposizione Caos di Nicola Figlia artista originario di Mezzo Iuso a Palazzo Sant'Elia a Palermo Caos l'esposizione dell'artista Nicola Figlia 74 opere in mostra sino al 26 aprile il pittore originario di Mezzo Iuso disegna penino realizza acque forti e dipinge ad olio lavora su tela e cartelloni nella sua pittura convivono in materia dilettica neorealismo espressionismo metafisica arte popolare influenze bizantine il tutto si presenta attraverso l'ossessione del personaggio e del volto prediligo i rapporti umani afferma Figlia attraverso gli sguardi comuni con le molteplici espressioni che può assumere un volto attraverso un formalismo carico di colori la mitologia rappresentata nei miei dipinti risale al mio periodo giovanile si rifà alle mie origini e al forte contatto con la natura che ho sviluppato sin da bambino a volte ho raccontato i miti attraverso cartelloni simili a quelli usati dai cantastorie della tradizione popolare siciliana i colori accesi delle mie opere potrebbero essere influenzati dall'espressionismo conclude l'artista un mondo che appare caotico solo ad uno sguardo disattento o fugace spiega Ignazio Francesco Ciappa curatore della mostra tinte piatte stesura semplice del colore cromie accese e intense potrebbero sembrare soltanto un amicamento ad atmosfere favs o al linguaggio naif emerge chiaro però ad un'assorbazione attenta e a una riflessione sulle stagioni dell'arte il percorso artistico compiuto da figlia attraverso una sintesi di visioni solo apparentemente inconciliabili allora avendo a che fare con gli enigmi anch'io ne invento qualcuno vi rivelo questo per esempio che è un enigma di sette parole però l'enigma ritalandolo è costituito da per esempio il cielo della nuova stanza vitte la crozza questo è l'arca di Noè bocca di rose soldato innamorato Alice al cinema di sette ai cantieri culturali della Zisa si è svolta la quinta manifestazione Palermo per i bambini organizzata dal Lions Club Palermo Leoni il ricavato è servito alla fondazione internazionale Lions che opera in tutto il mondo e per aiutare l'associazione palermitana a braccia aperte ad aprire un centro di accoglienza ascoltiamo le nostre interviste il club Lion Palermo Leoni che nell'ottica nel perseguimento degli scopi lionistici di solidarietà intervento in aiuto dei più deboli di recente ha organizzato per la quinta volta la manifestazione Palermo per i bambini che si è svolta al cinema di sette dei cantieri culturali della Zisa qui a Palermo che ha visto impegnati per ovviamente scopi esclusivamente benefici una serie di artisti palermitani l'organizzatore è stato un mio socio del club il dottore Mici che è riuscito ad unire delle vedette palermitani il direttore artistico è stato Giuseppe Milici e hanno partecipato dal Vespertino a Marcello Mandreucci alla cantante Negia e ad un'altra bravissima artista palermitano Stefania Bruno con le sue opere artistiche create con la sabbia è stata una manifestazione accolta con molto gradimento e con molto successo e ha riscosso anche il successo e tant'è che la ripetiamo già da 5 anni e speriamo di poter continuare in questa nostra strada il ricavato oltre alla fondazione International Lions per i vaccini contro il morbillo è andato anche a due realtà cittadine palermitane negli anni questa è la quinta edizione dello spettacolo abbiamo aiutato i bambini che sono presenti da Biagio Conte abbiamo aiutato abbiamo donato dei fondi per il reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale civico e quest'anno invece abbiamo donato questi proventi ad altre due realtà una è un centro accoglienza che sta aprendo una associazione si chiama Braccia Aperte questo centro accoglienza doveva essere aperto nel 2018 qualche mese prima di essere aperto è stato vandalizzato grazie a questo spettacolo e quindi a questa raccolta fondi stiamo aiutando per ristrutturare questo centro e quindi diciamo dare la possibilità a questi ragazzi immigrati di poter stare in questo centro un'altra donazione la facciamo anche ad un asilo un asilo per bambini immigrati che si chiama Giardino di Madre Teresa è una realtà anche questa sono bambini che vanno dai 0 ai 5 anni che aiutiamo da tanti anni come Lions Club Palermo Leoni quindi diciamo siamo molto felici di poter essere utili anche a loro domani torna l'appuntamento con la domenica favorita l'evento dedicato ad adulti bambini sportivi amanti della natura e degli animali con tantissime attività in programma che si svolgeranno all'interno del parco reale della favorita a Palermo domani torna l'appuntamento con la domenica favorita dopo il successo dell'evento inaugurale del 17 marzo ritorna l'evento dedicato ad adulti bambini sportivi amanti della natura e degli animali con tantissime attività in programma che si svolgeranno all'interno del parco reale della favorita a Palermo coinvolte nelle attività anche Villa Niscemi e la palazzina cinese che saranno aperte al pubblico con la possibilità di partecipare a visite guidate organizzate dal FAI durante le quali i ciceroni volontari racconteranno storie e aneddoti legati a questi edifici simbolo della città tra le attività da non perdere quella proposta dal Teatro Massimo un laboratorio scenografico a cui potranno partecipare adulti e bambini con la guida degli scenografi del teatro stesso che spiegheranno con attività pratiche come si realizza una scenografia e non mancheranno momenti dedicati alla musica con tra gli altri il concerto della fanfara del sesto reggimento Bersaglieri per gli sportivi la street event proporrà street workout green una camminata che si alternerà a stazioni di fitness in cui si praticheranno discipline diversificate indossando comode cuffie in wireless per gli amanti degli animali l'associazione Cani Salvataggio in una zona dedicata esclusivamente al mondo dei quattro zampe realizzerà attività di esibizione e di interazione con il pubblico dove chiunque potrà cimentarsi nell'addestramento di base e ancora presso il campo di salto ad ostacoli sarà possibile assistere alla seconda giornata del concorso Palermo Arabian Horses Cup con un centinaio di puro sangue arabi accompagnati dai loro conduttori nonché alla quinta Sicily Cup la competizione riservata ai cavalli nati ed allevati in Sicilia A Locarno in Svizzera in questo fine settimana si svolge la Coppa Italia Medici Calcio iniziativa di solidarietà cui partecipa l'associazione Medici Calcio di Palermo squadra ufficiale dell'Ordine dei Medici Questo weekend saremo impegnati a Locarno in Svizzera dove ci sarà la fase eliminatoria di Coppa Italia sono nove squadre a livello nazionale che si andranno a confrontare e di questi qualificheranno sei per la fase eliminatoria o per la fase finale che sarà a Roma è un evento importante dove andremo a rappresentare la Sicilia perché come squadre siciliane c'è solamente la squadra la S Medici Palermo e un'altra squadra che è la Trinaca Palermo sempre di Palermo di Calcio dei Medici ha uno scopo sociale e benefico facciamo sempre una raccolta fondi facciamo un evento formativo dove rivolgiamo alla cittadinanza alcune attività l'anno scorso abbiamo fatto i corsi BLS per la cittadinanza nella cittadinanza dove si è svolto il campionato nazionale quest'anno faremo altrettanto sarà in Toscana e quindi non si muove solamente il medico per giocare a pallone ma gioca a pallone ma fa sociale quindi fa manifestazioni sul sociale questa è la cosa importante è quello che ci contraddistingue rispetto ad altre attività ludiche per esempio dei medici facciamo attività sociale ed è tutto per questa edizione vi ringraziamo per la gentile attenzione prestata augurandovi un sereno fine settimana grazie a tutti